ciao scorpion ciao samuele buonasera a tutti quanti nome di divinità di animale benzina ok ok noto con piacere che c'è anche qualcun altro qua che che ha problemi di pressione qua con alcuni sale conto pare su world warships allora un paolo emilio sono andato a fare benzer la macchina dei miei 9 litri con 20 euro e ho visto fatto fare un giro fuori oggi ho visto che 2 euro e 50 cioè due 2.050 millesimi di euro al litro circa mediamente ma sicuramente ci sarà già qualcuno che ha messo a 2100 qualcosa del genere noiolo emilio descrivi le tue emozioni che stai provando a giocare la fdc please beh è un'emozione pazzesca o addirittura ha colpito un paolo emilio con tre colpi c'è quasi il 50 per cento tanta roba non so flash e ci sta rimettendo la pellaccia però pazienza ma perché è mirato male sono amica lo avresti preso probabile probabile è probabile cos'è che hanno loro un drake secondo me questo donskoi si fa ammazzare dal paolo emilio bravo che anche l'idroacustica un drake schillato ragazzi no chi è che ha richiesto questa canzone in questo periodo che mi sembra un po' fuori luogo ragazzi non so perché neanche stessi giocando una nave sovietica ben due colpi a segno ragazzi come voleva si dimostrare il coso qua il il donskoi si è fatto ammazzare dal paolo emilio come da previsione ovviamente il problema è che la pomer c'è i torps e noi no 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 dai secondarie fate finta di colpire sta nave ma è il danno che si prende sto barcone sarei voluto andare a rammare questo tizio con la con la povern ma non so se ci sarei riuscito alla fin fine il barcone che è sta roba ma cos'è sta roba una versione remix della canzone sovietica c'è sto abominio cosa sto ascoltando c'è un po' Grazie a tutti. Che culo che ha sto tipo con la pommer, no? Comisci il cazzo di incendi. Vabbè, ok, Alaska, va bene. Grazie a tutti. Ma il nostro incredibile team è riuscito comunque a farsi ammazzare. Non è male, eh? Non è male. Abbiamo letteralmente ammazzato tre navi per conto nostro. Il Paolo Emilio, il Drake e la Pommer. Ma, nonostante tutto, questi due geni qua, il Neptune e la Musashi, sono comunque riusciti a stare qua a non fare un cazzo. Non male.